musica 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 non lo sai cosa succede? non è che ci arriva qui? guarda la barchetta fra un po' arriva la barchetta destra fra un po' arriva la barchetta destra la sommerge ma è pazzesco a me sembrava un'illusione ottica guarda guarda la sbatte contro la roccia la sbatte contro la roccia guarda guarda la sbatte contro la roccia la sbatte contro la roccia ma davvero la sbatte contro la roccia la sbatte contro la roccia mamma dove la sbatte sulle roccia e continua a spingere e finì che gli spazi si guarda e finì che gli spazi si guarda a e e e e e e Grazie a tutti. 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 Arriba. Arriba. Grazie a tutti.